In giornata arriveranno le firme di Carlo Ilari, un gradito ritorno dopo la stagione a San Benedetto del Tronto e del centroavanti Piero Cianci, contratto triennale per l'ex attaccante della Robur Siena. Si punta adesso a convincere il centrocampista centrale Domenico Mungo, 26 anni, ad accettare Teramo. Stiamo parlando di un calciatore importantissimo per la categoria. Nelle ultime tre stagioni a Cosenza, delle quali due in serie C con 58 presenze complessive e 8 reti, 4 a campionato e 28 presenze nella stagione ultima nella cadetteria. È innegabile che l'atleta, 174 cm x 68 kg, abbia molto mercato. Prima dell'esperienza Calabra era stato in C a Pistoia per due anni con 64 presenze equamente ripartite e ben 12 reti, 5 nella prima stagione e 7 in quella successiva. Andrea Iaconi punta a convincere il giocatore a scendere di categoria. Non sarà facile, ma neppure impossibile. Il Teramo Calcio, che sta sottoscrivendo contratti triennali come acquistasse Caramelle, è stato così per Soprano, sarà così per Cianci. Ha oggi una forza tale che difficilmente, almeno da questa angolazione, riuscirà ad essere o poco competitivo o poco convincente. Certa è una cosa, se operi su atleti di cotanto livello, alla fine dovrebbe essere allestita davvero una rosa di prima fascia, girone B o girone C, probabile che sarà.